l'onomastico. Oggi l'onomastico di Giulio. Il nome ha origine latina e significa sacro a Giove. Giulio ha una personalità intraprendente, socievole, vivace, ma ha attenzione a non ferirlo. Potrebbe tirare fuori gli artigli. Accadde oggi. Il 12 aprile del 1992 apre nella regione ad est di Parigi, il parco divertimenti Euro Disney. Oggi prima meta turistica in Europa con oltre 15 milioni di visitatori ogni anno. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 12 aprile ricordiamo l'attore turinese Luca Argentero e l'attore cubano Andy Garcia. La citazione del giorno. Il cielo lasciatelo ai passeri, noi restiamo con i piedi per terra. Vasco Rossi. Dice il saggio. A chi ha paura non basta l'armatura. Il bel paese. A Firenze la domenica di Pasqua viene celebrata in un modo spettacolare con lo scoppio del carro, una tradizione nata circa 350 anni fa. Il carro, decorato con una torre di due o tre piani, viene trainato per le strade di Firenze da due buoi ornati con ghirlande fino ad arrivare a Piazza del Duomo. Più o meno verso le undici, l'arcivescovo dall'altare della cattedrale accende con il fuoco sacro un razzo a forma di colomba che, percorrendo un filo, vola fuori dalla chiesa e va a colpire il carro nella piazza, dando vita a spettacolari fuochi d'artificio. Se il rituale procede regolarmente e tutti i fuochi d'artificio esplodono, allora si prospetta un anno ricco e florido e buona fortuna per la città e i suoi cittadini. Grazie a tutti.